Guardella, movimento verso la porta da parte di Manzi, servito da Leonetti, attenzione a Pavone, pinta per Loreto, Loreto! A 12 minuti dalla fine, la Turris passa a Campobasso in vantaggio, ancora una volta, 3-2 per la squadra campana, in gol Ciro Loreto al suo secondo gol in stagione. Vantaggio, Turris! Come un fulmine a ciel sereno per il Campobasso, dopo la prima occasione di Leonetti in avvio di secondo tempo, forse la prima...